buongiorno allora sono a saronno ospite della mondadori da costanza grande libraia e già al secondo anno che vengo qui da lei io mi presento sono erica gibogini e vivo sul lago d'orta vivo pettenasco che è a pochi chilometri da orta anche se la mia vita lavorativa e molte cose sono a omegna dove ho vissuto fino a una decina di anni fa perché sono qui perché anche se io svolgo un lavoro amministrativo perché lavoro in comune e ho famiglia e una vita tranquilla grazie al cielo fino fino a oggi e diciamo così normale ho però la passione prima della lettura sempre letto moltissimo secondo della scrittura che sono riuscita solo in questi ultimi anni un po canalizzare incanalare in una cosa un po più compiuta e quindi mi sono lanciata in questa avventura e non solo scrittura ma scrittura gialla perché di tutti i generi che ho letto quello che più mi piace mi passione è il giallo e quindi ho cominciato a scrivere giallo ho cominciato a scrivere racconti gialli e poi mi sono così avventurata in storie un po più lunghe quindi romanzi parto comunque dall'inizio brevemente quindi con i miei racconti sul lago d'orta ed ecco qui la mia particolarità perché perché la mia vicenda gialla sono riuscita così a darle forma nel momento in cui me la sono immaginata non in un posto qualunque ma nel mio lago quindi fuori da casa mia e quindi con i racconti ho toccato vari punti del lago e con questa raccolta appunto poi mi sono così scommessa con me stessa ho pensato di cercare di scrivere qualcosa di più di più lungo e quindi ho cominciato con il primo romanzo uscito l'anno scorso rose bianche sull'acqua che segue picnica al lago uscito proprio questi giorni come morellini editore comunque editore anche del primo del primo posso dire che è ambientato completamente a orta quindi orta protagonista un posto bellissimo storia di due ragazze che si incontrano sul lago una si deve sposare ma questo matrimonio mai avverrà perché la ragazza viene trovata morta la mattina del matrimonio in una darsena e lì la vicenda con anche incrociata con personaggi del paese quello di quello nuovo quello che è uscito adesso è invece picnica al lago cambio stagione perché l'altra era era autunno bellissima stagione stagione che a me piace molto piniche evidentemente si parla di estate e quindi sono una piena estate giornata di ferragosto una coppia di novara viene sul lago come tantissime persone in tutta l'estate vengono per gite e piniche e bagni al lago e vanno nella cui cambio zona appunto vado su sull'altra sponda sulla sponda occidentale dove c'è boleto e santuario della madonna del sasso e pella sulla costa qui appunto vanno per questo pinnick ma la ragazza scompare la moglie di questa coppia e scompare anche qui vicenda che vede come protagonista i miei posti incrocia la storia con personaggi del paese e ho voluto un dato dargli un taglio un po più così di compagnia un po più corale e un po anche con questo mistero legato al santuario che dire a me piace a mia passione io mi auguro che così le persone possano apprezzare la mia scrittura uno per la storia ma due tanto tanto per i luoghi perché vedo in questa mia mia scrittura non solo la vicenda ma veramente anche la promozione di posti posti stupendi quindi grazie a tutti se avrete voglia di leggerlo e grazie buona lettura in giallo